Dal 13 al 20 maggio torna la 44esima edizione della mostra del libro per ragazzi a bottega presso la palestra comunale Palafoglia Seston The Day. Laboratori per bambini e ragazzi, mostre, letture ad alta voce ed incontri. E non perdete la fabbrica del libro, omaggio a Renata Agostoli. Mostra del libro per ragazzi dal 13 al 20 maggio a Vallefoglia.